bene amici ci troviamo passo monte croce di comelico ciao oggi il glutei team dove sta andando? monte rosso siamo dalle parti di? nel comelico siamo nel comelico superiore stiamo intraprendendo il sentiero 131 che in un'ora e dieci si porta la malgan neme comodo il sentierino il nostro gluteo e noi il 10 aprile sfoggiamo le ciaspole eccoci qua sentiero 131 ha appena detto bello perché tutto è piatto anzi ha trovato un pezzo di montagna in discesa prima o poi troverò una strada in discesa che mi porta in cima vero? si sicuro prosegue la nostra passeggiata sempre sul sentiero 131 grazie per la nostra sottotitura grazie a tutti 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 Sì Grazie a tutti Bene, abbiamo superato la Malga, Malga Nemes, Names come si chiami, arriviamo a questo punto qua dove troviamo più neve, abbiamo preso il sentiero 13 dopo la Malga e qui mettiamo le ciaspole, magari facciamo meno fatica, dobbiamo andare di là e poi a destra, Monte Rosso. Siamo quasi in cima! Piccoli esploratori! Eccola! Fatichissima! Questa è la zona della Monte Rosso, finitoci la pace. Tra l'altro! Buongiorno! Trudate team! In cima! Mano! arrivati no, non si dice è partito un attimo aspetta e là alle tre cime anche per Asi le abbiamo lì no, non si dice si chiede dal monte all'assai ecco il nostro campione stile uovo come sta succedendo mazzone? sei fermo comunque no glute team sempre più wild sui sentieri estivi con le ciascole il 10 aprile sui sentieri 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 Ciao bambini! Ciao bambini! Ciao bambini! Sei sul ghiacciai o? Con le ciaspole? Come andare! Ea a moda! Siamo il champion! Bene, dopo essere scesi da lì in mezzo, abbiamo fatto una piccola sosta a rifugio nemes, alte nemes, 1.950 metri Ovviamente adesso è chiuso, noi facciamo una piccola pausa a panino qui in veranda, nella veranda del rifugio Oh la signora sta stendendo i pagni eh! Volevo farvi solo vedere questo, mamma mia che casino per fare un video! Ciao bambini! Salve! Ciao! Ciao! Bene ed eccoci finalmente di nuovo al parcheggio dove abbiamo lasciato la macchina stamattina dove l'abbiamo trovato pausa e Buon appetito!